Unità, aspettate i miei ordini! Sì! Prima corte della legione! Avanti! Prima corte della legione! Avanti! Arceri! Prima corte della legione! Arceri! Avanti! Arceri ausiliari! In marcia! Corte! Muovetevi! Avanti! Prima corte! Prima corte! Prima corte! Prima corte! Corte cittadina! Prima corte! Prima corte! Avanti! Forte cittadina! Muovetevi! Prima corte della legione! In marcia! Muovetevi! Forte cittadina! In marcia! In marcia! In marcia! Muovetevi! Pretoriani a cavallo! Avanti! Generale! Muoversi! Prima corte! In marcia! In marcia! Arceri! Muovetevi! Avanti! Prima corte della legione! Unità! 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 In marcia! Unità! Unità! Prima corte! In marcia! In marcia! Pronti! Presidiare la zona! Unità! In marcia! Unità! Prima corte!! N slide! Unità! Grazie a tutti! Unità! Sì, 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 sì. Unità, avanti! Poverci, avanti! In marcia! Prima corte! Avanti! In marcia! Siamo sotto attacco! All'attacco! Siamo sotto attraverso! Stop! Siamo sotto attraverso! è! Poi! 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 Cosa? Stiamo sotto attacco! Stiamo sotto attacco! Stiamo sotto attacco! Stiamo sotto attacco! Il generale nemico è stato ucciso e ora i suoi uomini ci temono! È il momento di intensificare l'attacco! Stiamo sotto attacco! 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 Il nemico mostra il suo vero valore! Non sono soldati! Sono solo conigli spaventati in fuga dai nostri uomini! Questa è una vittoria eroica degna delle armi romane! Stiamo sotto attacco! Stiamo sotto attacco!